Sono partiti in 25, era il mese di settembre del 1923. Ora, cento anni dopo, hanno superato quota mille. Gli scout del Bassanese si preparano a festeggiare il centenario dalla fondazione. Da questo gruppo, che inizialmente era il centro giovanile, poi si è diffuso alla Trinità, a San Marco, a Santa Croce, a San Giuseppe di Cassola, a Marostica, a Mussolente. E oggi lo scoutismo conta ben nove gruppi, di cui otto come agesi cattolici, insomma scout e guida cattolici, e un gruppo CNJ, che diciamo quindi lo scoutismo laico, presenta nel Bassanese con circa mille iscritti. Una storia, quella degli scout bassanesi da ripercorrere e da mettere nero su bianco, ci ha pensato lo storico Francesco Tessarolo, che riassume il messaggio rileggendo uno scritto del fondatore Bortolo Zonta. Sogna ancora ogni notte, tende su prati pieni di sole, pinete verdi, cascate sonanti, fuochi di bivacco. È una passione, un entusiasmo per lo scoutismo, che illumina tutti i cento anni della vita scout di Bassanese. Cento anni di scoutismo che verranno celebrati dall'8 al 23 settembre con una serie di iniziative per ricordare la storia e soprattutto guardare al futuro. Per rilanciare nel ruolo dello scoutismo, nel ruolo dello scoutismo in questa società che sta cambiando, sta cambiando anche il modo di educare, il ruolo della famiglia, il rapporto tra adulti e ragazzi, e noi crediamo che lo scoutismo possa ancora dare tantissimo.